E alle battute finali la composizione del nuovo governo regionale. Per avere la certezza sui nomi che andranno a ricoprire i vari assessorati, bisognerà però attendere l'ufficialità che arriverà soltanto al termine del summit previsto oggi a Roma tra il neo-governatore Francesco Acquaroli e i segretari regionali dei partiti di maggioranza. Tre poltrone per la Lega, due per Fratelli d'Italia, una per Forza Italia. Per Civici e Udc invece sono previsti ruoli chiave, tra cui la Presidenza, nell'Assemblea Legislativa. Per la Lega, il primo nome che andrebbe a comporre la Giunta Acquaroli è quello del fanese Mirko Carloni. Il consigliere uscente andrebbe a ricoprire l'incarico di vicepresidente e di assessore alle attività produttive. Filippo Salta Martini, sindaco di Cingoli ed ex parlamentare, sarebbe pronto per guidare uno degli assessorati più complicati in questo periodo storico, ovvero quello della sanità, mentre Daniela Tisi, unica quota rosa della probabile squadra di governo, si occuperebbe di cultura e turismo. In casa Fratelli d'Italia, per Guido Castelli, ex consigliere regionale e sindaco di Ascoli, sarebbe previsto l'assessorato al bilancio e in qualità di rappresentante di giunta si occuperebbe da vicino della ricostruzione post-sisma. Al partito di Giorgia Meloni andrebbe anche l'assessorato all'agricoltura. In pol per la guida, Francesco Baldelli, ex sindaco di Pergola. La poltrona di Forza Italia, invece, ricadrebbe sull'importante comparto dei trasporti e delle infrastrutture, alla cui guida andrebbe l'ex consigliere regionale Daniele Silvetti. La squadra di Acquaroli si chiuderebbe infine con la nomina del rappresentante Udc di Nolatini, sindaco di Osimo ed ex consigliere, per la presidenza del consiglio regionale. Non si parla però solo di giunta, con le nomine annunciate fin qui, infatti, andrebbero riassegnati anche alcuni seggi del consiglio regionale. Tra quelli che interessano la provincia pesarese, al posto del leghista Carloni sarebbe pronto ad entrare il ferminianese ed ex presidente di Urbino Servizi, Giorgio Cancellieri. Mentre tra le fila di Fratelli d'Italia, il consigliere comunale di Pesaro ed ex candidato sindaco Nicola Baiocchi subentrerebbe a Francesco Baldelli. Non resta quindi che attendere le prossime ore per conoscere la composizione ufficiale del nuovo governo regionale.